allora siamo qui in officina stasera perché stiamo imbastendo i pacchi gara per tutti gli abbonati ai circuiti caveia tour 3 regioni e super six e vi voglio far vedere un prodotto che quest'anno entra dal nostro sponsor tecnico ctk lite che ringraziamo ed è un prodotto estremamente utile perché come sapete come avete già visto anche l'anno scorso ci piace mettere in questo pacco gara riservato agli abbonati dei prodotti molto utili e questo parlando proprio con antonio di ctk l'abbiamo reputato un prodotto molto utile parlando di questi parafanghi adesso ve li faccio vedere in bianco e nero ma c'è anche una versione trasparente e si troveranno all'interno di tutti i pacchi gara chiaramente o vi troverete questo che il posteriore o vi troverete questo che è l'anteriore ok e sono prodotti chiaramente utili che si abbinano con qualsiasi bicicletta e tornano utili soprattutto in caso di fango quindi perché è stato una scelta voluta è molto molto bella solo che adesso io sono qui in officina vedete però è anche un po che non vado in bici la tecnica non è la mia il mio forte e non so come montare sti sti robi sti affari e ci sono io raga scusate l'ordine ma qua sul bike non sapevo che davidino venisse l'officina è del nostro ormai troppo casino troppo casino non farmi vedere il mio casino più o meno tutti ma è il nostro biker di fiducia tra l'altro devo dire anche l'uomo immagino di tutti è nato col caveia ma adesso lo stanno conoscendo tutti i porn hub ci stiamo allargando esatto e vi faccio vedere la sua bici allora pulita però da te non me l'aspettavo è sporca così vi faccio vedere che la uso esatto e approfitto per far vedere anche che tu hai montato le ctk carbon la rush davanti e anche dietro la coppia la coppia perché comunque adesso magari ne parleremo in un altro video ma queste ruote sono anche il premio principale del circuito tour 3 regioni attenzione spoiler attenzione spoiler perché andranno ai primi tre assoluti non abbiamo già parlato in un articolo poi magari faremo un video dedicato nei prossimi giorni però adesso spiegaci come montiamo si montano questi benedetti parafanghi io ti fido il parafango è questo che è forma di perizoma anteriore no con delle quattro semplici fascette che sono comprese le abbiamo comprese nel kit esatto si monta adesso a spacciugare vediamo destra ne hai già uno montato il mio sporco esatto vedete qui nell'archetto della forcella con le due fascette superiori e poi nello stelo nello stelo nel fodero pardon con le altre due fascette questo qui a cosa serve tutti pensano tutti pensano che il parafango così non ti schizzi no non è vero un cazzo perché gli schizzi come vedete no nel muso t'arrivano t'arrivano lo stesso questo qui in condizioni autunno inverno comunque fangoso barra bagnato fango eccetera ti aiuta a salvare uno lo stelo della forcella così non ti si accrocchia tutta la bella fango con i sassi con tutti i detriti vari e vai a salvare un po' anche la serie stessa quindi molto molto utile e si monta in 5 minuti neanche io non ci sarei ovviamente mai arrivato infatti quando ho visto quattro fascette auto tecnologia era diventato ero andato in panico questo invece le fascette non le ha neanche questo è ancora più semplice perché va a incastro nella nostra scella no? questo qui adesso senza andarlo a spacciugare troppo lo stacchiamo qui nel nostro archetto della scella dove? tengo a precisare che non abbiamo fatto una prova no no tutto improvvisato e questo qui dai ti vai soprattutto se la usi più che altro adesso noi in mountain bike facendo fuori sella rimane un po' scomodo però dai nelle sessioni invernali che magari fai un po' più d'asfalto che non fai tanti su e giù dalla scella è comodo perché non ti schissi le chiappette ma poi adesso avete tutto il telescopico avete tutto il telescopico anche qui magari dopo ti rimane è fuori sella a fare e comunque dai sono quindi questo si infila adesso senza infilare ma poi mi infila proviamo a staccarlo tutto adesso sei diventato anche babbo quindi no infatti hai perso potenza comunque va a incastrarsi qua esatto quindi ci vuole proprio questo forse ci sarei arrivato anche da solo perché non ha le fascelle non ha le fascelle l'altro avrei avuto l'altro attenzione avrei avuto un po' di problemi quindi devo dire grazie questo sarà chiaramente uno dei prodotti del pacco gara oltre a tutti gli altri che già vi abbiamo descritto nelle nostre varie notizie grazie al nostro meccanico di fiducia guardate bene le ruote perché questo sarà un bel premio per la stagione per quanto riguarda tutte le regioni 2023 attenzione e niente ci vediamo sui campi di gara ciao ciao X